Signori, molti di voi si sono arrabbiati, frustrati, infastiditi dal fatto che non stessi facendo molta copertura per quanto riguarda le patch notes di Valorant e lo posso anche trovare complessibile. Considerato comunque che il gioco attualmente è in una fase strana in cui ci sono le patch notes ogni due settimane ma sono cambiamenti così piccoli, diciamo che è stato un periodo strano le patch notes per me farle. La 1.10 che andavo a inserire Icebox avevo già introdotto tutto con un video apposito su Sky e Icebox e trovo ripetitivo semplicemente di fare la stessa patch per poi andare alla 1.11 che doveva uscire un giorno, poi non è uscita, poi è uscita tipo 5 giorni dopo. È stato un caos tale che ho detto vabbè saltiamo anche la 1.11. Siamo arrivati alla 1.12 e voglio fare una cosa, voglio fare tra virgolette ammenda e coprire tutte le patch fino ad ora dalla 1.10 alla 1.12 così sapete che cosa succede. E da qui in avanti, a prescindere se usciranno o meno le patch, a prescindere se il server viene caricato con il nuovo client aggiornato, io farò uscire la patch nel momento in cui il documento sarà online. A prescindere se è ripetitivo o meno, perché? Perché è giusto che sia così. È giusto che voi abbiate le vostre patch notes il giorno in cui escono e che sia così è fine. Niente se, niente ma, niente ragionamenti. Arrivano le patch notes, arriva il video il giorno in cui escono le patch notes. Punto. Ora, lanciamoci nel video, ma prima di lanciarci nel video vi ricordo un paio di cose. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, commentate sotto se avete dubbi e domande su qualsivoglia cosa. Io provo sempre a rispondere alle domande come avete potuto vedere nel tempo. E se volete vedere dei gameplay per quanto riguarda League of Legends, sotto c'è un link per andare a iscriversi al mio secondo canale che è pieno di gameplay di League of Legends, totalmente dedicati, totalmente non tagliati. Quindi potete godervi partite intere, capire come funziona il gioco, come funzionano certi campioni. E se volete vedere certi campioni, lo mettete nei commenti all'interno di quei video. Ma ora, lanciamoci per davvero nell'analisi. Salve tutti quanti, io sono Terenas e sono quella persona orribile che per un sacco di tempo ha deciso di non fare le patch notes di Vaurant, ma ora rimediremo su tutte. Patch notes 1.10. Ah, 1.10 è quando è stata inserita Icebox, che dicono se tutto va bene, Icebox debutterà ne a coda competitiva 27 ottobre. Boy, that was wrong. Quanto tempo abbiamo dovuto aspettare per poter effettivamente giocare Icebox in competitivo. E andiamo a spiegare un attimo. Inizio patch, i giocatori in coda non competitiva hanno maggiori probabilità di giocare su Icebox. Infatti c'è stato per una settimana la possibilità di aver aumentato i giocare Icebox. Nel mio caso non ha mai funzionato. Io ho avuto tipo un game di Icebox su 7 che avevo giocato in normal e mi ha frustrato a schifo sta cosa. Punti di ascesa e le teleferiche accelerazioni ritoccate per evitare dei cambi di direzioni improvvisi. Aggiunta portata nell'ultima patch, ma non indicata le note sulla patch perché ci avreste chiesto delle teleferiche. Aggiunto il tagging quando si viene colpiti sui punti di ascesa. Queste modifiche puntano a rendere i giocatori che usano punti di ascesa e teleferiche meno sfuggenti durante i combattimenti. In pratica, se siete su Splits, se siete su Icebox e utilizzate le teleferiche o comunque in generale le corde, cosa succede? Venite rallentati nel momento in cui salite e scendete e venite colpiti dai proiettili. Molto sensato come cambiamento, molto giusto come inserimento. Vedremo poi come ci si giocherà attorno. Ci vorrà del tempo, a prescindere in competitivo, penso col First Strike, vedremo in maniera più efficace l'impatto di questo cambiamento. Su Asset e Bind, iconi visioni sono migliorati, anche Even Split potrebbe essere aggiornati in questa patch e semplicemente si vede meglio il cono di visione, tutto qua. Aggiornamenti della modalità competitiva, è possibile selezionare il proprio datacenter preferito, questo è fantastico, quindi devi scegliere almeno, almeno tre, da quello che ho potuto testare. Se ne scegli solo uno, diventa molto difficile trovare un game, se ne scegli tre, diventa facilissimo. Se arrivi fino a sei, è tipo super basic, te lo trovo in tempo zero. Se avete una buona linea, sceglietene il più possibile. Se avete una linea un po' di merda, sceglietene uno e piuttosto aspettate un po' di più. Limitata la differenza di grado classificate nelle competitive a tre gradi, prima erano sei. Abbiamo reso più rigido il matchmaking competitivo in modo da ridurre il divario di abilità. E le modifiche ai gradi di Immortal in poi verranno determinate solo da vittorie, sconfitte e incisività del risultato. Differenza tra round 20 e persi, non prenderanno in considerazione le prestazioni individuali. Molto, molto, molto sensato. Il deathmatch adesso passa da 10-14 giocatori, l'algoritmo di rigenerazione in gioco per incentivare i rientri più sicuri è stato aggiornato. È rimolso l'impulso periodico di mostrare a tutti i giocatori sulla minima app, ora li mostra solo al vostro rientro. E questo è quanto. Semplicemente hanno aumentato la durata degli incontri e diventa un pochino meno prevedibile. Cioè la gente non deve per forza di cose camperare, perché sa da dove arrivano gli avversari. Di solito cosa succedeva prima in deathmatch? Aspettavi che arrivava il ping sulla minima app, vedevi tutti quanti e poi li andavi a caccia praticamente, sapendo dove erano tutti gli altri. È una roba abbastanza brutta secondo me, molti portavano a camperare e adesso non c'è più sta cosa. Meno male direi, meno male decisamente. Poi ci sono state le modifiche alla qualità dell'esperienza, le prestazioni di minima app, il pass battagli, i giocatori. Ora posso scegliere la propria variante invece di aumentare il loro livello in modo sequenziale. Meno male, era una delle cose che dall'inizio, dal lancio del gioco era abbastanza discutibile. Le partite personalizzate in modalità torneo ora possono ospitare fino a 12 spettatori, permettendo quindi a produzioni molto più complesse di avvenire durante i tornei, quando funziona lo spectate, porca di quella gran puttana. E per il resto sono robe molto semplici e basilare. Passiamo alla 1.11 invece, che va a cambiare le regole dell'economia, va a introdurre Sky, che avete già visto e giocato contro ormai presenti abbastanza facilmente. Quindi Sky potrà iniziare a essere utilizzata in competizioni di sport ufficiali come First Strike dopo due settimane di coda competitiva, il 9 novembre salvo imprevisti, sottolineiamo il salvo imprevisti. E poi vanno a spiegare quello che è la situazione di bilanciamento, spiegano come in competitivo vogliono evitare certi modi di giocare molto passivi e vogliono promuovere più l'aggressione. E infatti, cosa vanno a fare? Demolitori vanno a potenziare prepotentemente Breach e in generale tutti coloro che sono dotati di Flashbang. Il tempo di cercamento totale di Breach passa da 1,75 secondi a 2 secondi e già era in grado di portare 3 Flashbang in campo. Non solo, una cosa che non è stata fatta notare è che le Flashbang nuove ci mettono più tempo a scomparire del tutto e quindi ci vuole più tempo per vedere in maniera chiara gli avversari. Questo è stato fatto perché alcune Flashbang funzionano in maniera strana, non chiedetemi il perché o come o quali personaggi perché non l'hanno rivelato e ogni giocatore dice Eh no, ma questo durava di più, questo durava di meno, eh, ma questo si vedeva diversamente. Adesso è uniforme. Per tutti quanti, vieni accecato, quella è la durata, questa è l'animazione che parte con quella durata, punto. L'hanno reso semplicemente coerente, tutto qua, niente di più. Questo è stato un enorme potenziamento a Breach, by the way, che già non era messo male, adesso è semplicemente una mostruosità. Se sapete giocare Breach, giocatelo perché è straforte. Eeeeeee... Marca buttana. Quando l'utilità viene recuperata nella fase dopo l'acquisto, le cariche non rimangono fino al round successivo. Le cariche temporanee per i guardiani, questo è bruttissimo per il cambiamento perché cose come le trappole, i cavi di Cypher si disattivano, tra virgolette, quando muori. Andiamo con calma. Protocollo di cattura. Raccogliere le trappole nella fase dopo l'acquisto ripristina una carica temporanea. Cosa significa? Che tu non la tieni nel round successivo. La tieni solo per questo round e poi dovrai ricomprare quella carica. Cosa che trovo... Comprendo il perché, ma lo trovo comunque brutto. E la cosa più grave però è questa. Quando Cypher muore il cavo si disattiva e viene rivelato. Cioè io ho speso 200 gold e non... Il senso è questo. È che devi esporti quando c'è il cavo presente. Vogliono mettere più a rischio Cypher. Non un ok metto giù due cavi e semplicemente me ne posso andare dove voglio. Che capisco, però è veramente, 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 veramente brutto. Quando Cypher muove la telecamera si disattiva e viene rivelata. Normale, questo non è neanche niente di speciale. Cioè gliela distruggi, non è che faccia questa grande differenza. Però, oh, almeno sai dove è indicato. Sai dove l'aveva attaccata e almeno puoi imparare un minimo dove il tuo avversario la va a piazzare di solito. Se riesce a eliminare Cypher prima che riesca magari a rispondere al suo team o cose del genere. Killjoy, disattivazione in distanza, roba all'arma e torretta ora si disattivano. Se Killjoy si trova più di 40 metri da loro si riattivano quando rientra nel raggio. Sensato proprio perché metteva tutta la sua utilità in un punto e se ne andava. Stesso concetto di Cypher. Stanno cercando di rimuovere questa cosa. Questo io abbandono tutta la mia utilità e me ne vado. Fine. Questa è la cosa che vogliono evitare a tutti i costi. Stesso discorso per la torretta. La ricarica dopo il recupero è ridotta da 20 a 10 secondi. A questo modo quando la recuperi e poi la vai a ripiazzare hai meno tempo di delay tra il rimuoverla e il piazzarla effettivamente. Meno male aggiungerei perché era una cosa assolutamente agghiacciante il fatto che questa fosse la situazione. Oh, però era così. Che si può fare? Il roba all'arma adesso è la genitidizzazione. Scende da 9 a 7 metri rendendolo molto meno pericoloso. La ricarica dopo il recupero viene ridotta da 20 secondi a 7 secondi, il che lo rende estremamente efficace come strumento reattivo. Cosa significa? Tu non lo piazzi giù e te ne vai. Lo utilizzi piuttosto per un so che i nemici stanno arrivando, lo piazzo di fronte a un accesso e mi metto in un angolo così che posso sfruttare la fragilità che causa il roba allarme. Ci sta, l'idea è sempre la stessa, la comprendo assolutamente, però ridurrelo a 7 metri vuol dire essere proprio in faccia al robot, quindi... Sarà più difficile distruggerlo perché devi mirare più in basso, quello è un po' più disruptive, però... Eh, non un grandissimo fan. Anche il nano shaman viene nerfato, ragione di indurazione, il nano shaman è ridotto da 5 metri a 3 metri e mezzo. Questo è effettivamente un buff. I danni vengono aumentati... No, wait, è un buff, alla fine hanno deciso di buffarla. Oh mio Dio, scusatemi, ho detto una cazzata. Ne dico tante, non preoccupatevi. Ragione di indurazione, il nano shaman è ridotto da 5 metri a 3 metri e mezzo. Ero convinto fosse il contrario, infatti ero tipo, oh, per quale motivo nerfano il ragione di indurazione? 5 metri? Wow, devi essere veramente vicino per spottare adesso il nano shaman. Il danno viene aumentato da 40 a 45 danni al secondo. Ora il nano shaman infligge danni continui più rapidi, invece i 10 danni ogni 0,25 secondi. Sensato, quindi funziona come una molly classica. Il danno viene applicato in maniera corretta nel tempo, non... In maniera continuativa. Tutto qua. Mi piace, mi piace molto. Molto figo. Pensavo fosse... La cosa del ragione di indurazione, pensavo fosse un nerf. Infatti dico, ok, sì, però almeno fanno più danno. E quindi dico, eh, non è un gra... Cioè era un buon... Era un buon modo per ribilanciarla. Invece adesso è fichissimo, è solo un buff. Magnifico, davvero magnifico. Aggiornamenti a modalità competitiva. Icebox entra nella rotazione di mappe per la modalità competitiva. Sarà disponibile competizioni di sport ufficiali dopo 4 settimane di coda competitiva. Il 29 novembre, salvo imprevisti, haha XD. E poi i tempi di coda non competitivi o più brevi per giocatori di grado più elevato. Abbastanza basilare, tranquillo. Questo però è un grosso cambiamento ai sistemi di gioco. L'aggiornamenti alle regole dell'economia. Gli attaccanti che hanno perso ma sono sopravvissuti per tutto il round senza pezzare la spike, ricevono un totale di crediti ridotto. Cosa significa? Se tu ti rendi conto, tre dei miei alleati sono morti, voglio salvare l'arma, ma non possiamo piantare la spike e sei in attacco, tu guadagni solo mille crediti. Punto. Fine. È fatto apposta per evitare che succeda spesso questa cosa del salvare l'arma. Vogliono costringere un po' la gente a... Provateci ragazzi. Cioè piuttosto fate qualcosa ma provateci. Anche i difensori che hanno perso ma sono sopravvissuti per tutto il round dopo la detonazione da spike ricevono una quantità di crediti inferiori. Giustamente. Mi piace molto questa cosa. È fatto. Abbiamo fallito a difendere, almeno salviamo l'arma. Prova a difenderlo il tuo cazzo di spot. Prova a disinnescare. Non salvare soldi soltanto per i tuoi alleati. Perché il senso è questo. Tu salvi l'arma, magari avevi già anche dei soldi da parte, puoi comprare un'altra arma al tuo alleato appena ricomincia il prossimo. Vogliono evitare questo. Vogliono evitare che ci sia quel momento in cui semplicemente salvi per soldi. Cioè capisco l'idea, non sono d'accordo col metodo. Non così. Non così. Ci sono sicuramente dei modi migliori, attualmente non mi vengono in mente così su due piedi, però è abbastanza brutto. Cioè forzare l'azione in questo modo non un grandissimo fanatico. Morire a causa della spike non conta più come una morte ai fini di statistiche. Ulteriori informazioni su economia. Partite sono state aggiunte come tooltip e sono visualizzabili. Passando con il cursore, sul punto di seconda tipo al minimo prossimo round. Vedete questo piccolo puntino giallo? Ecco quello. Che io mi sono appena reso conto che voi vedete tutto più piccolo, per colpa mia oltretutto. Perché l'avevo zoomato in fuori. Adesso rivedete tutto quanto tranquillamente. Ora possiamo selezionare l'impugnatura mancina. Ah, quindi se vi trovate meglio con l'impugnatura mancina, potete semplicemente andarla a selezionare, aprendo il menu delle impostazioni e cambiando visuale il modello in mancino. Con questa opzione attiva anche gli altri giocatori osservati appariranno con l'impugnatura mancina. Ora è possibile inviare un messaggio diretto cliccando sul nome di un amico in un chat, invece di doverlo digitare. I giocatori afco con valoranti in background a più di 5 minuti ora appaiono come non al computer. Nichidezza sperimentale. Questo è curioso. Questa impostazione grafica è stata accendentamente implementata nell'ultima patch all'inizio avevamo intenzione di rimuoverla. Ma i vostri feedback ci hanno convinto a non farlo. Per questo motivo resterà disponibile, ma con impostazioni predefinite più precise. Non sappiamo ancora quando riusciremo a ottimizzare le prestazioni o regolarla meglio, quindi consideratelo una versione beta. Ok. Che poi c'era su Reddit, quindi tipo figo. Carino il fatto che vadano anche a menzionare dove arriva i feedback. Ma, signore e signori, siamo arrivati alla patch 1.12. Oh, guarda che bello. Siamo arrivati alla patch 1.12. I stemmi del graduato sono stati disabilitati durante le partite. Stiamo indagando sulla possibilità che stiano creando problemi di prestazioni. Il vostro stemma verrà comunque mostrato nelle lobby delle partite competitive durante il caricamento della mappa e nella schermata di fine partita. Comprensibile se c'è un bug che causa problemi di prestazioni. Non so come dei cazzo di stemmi possono causare problemi di prestazioni. Oh, meglio indagare, meglio capire che cacchio succede. Vedremo poi. Poi aggiornamento ai sistemi di gioco. Sono robe molto piccole la patch 1.12. Proprio per questo mi trovavo anche in difficoltà a fare sempre patch notes, perché tipo, ok, tre minuti di video in cui dico ci sono tre cagate, ciao. Eh, invece così non è male. Gli spettatori non sentiranno più l'audio dei segnali. Migliorata visibilità delle linee di tiro nelle aree ben illuminate. Comprensibile in alcune aree lo spectator non riusciva proprio a far capire, intendere dove stesse guardando un player. Aggiunto un trucco modifica stato del gioco, che permette ai moderatori di regolare vari aspetti del gioco, statistiche giocatore, denaro, eccetera, durante l'impostazione di un torneo. Eh, strano. Davvero, davvero strano. Immagino sia per fare le modalità divertenti, tipo, ah, potete giocare solo con l'operator, divertitevi. Non so quanto sia divertente per gli attaccanti, una cosa del genere, ma ok. Annullata la modifica ai colori delle squadre implementate nella 1.11. Questa scelta ha provocato un po' di confusione, dato che molti avevano ormai associato il rosso all'attacco e il verde alla difesa. Si sono presentati alcuni bug che mostravano certi elementi dell'interfaccia con il colore sbagliato. E quindi ha detto, ragazzi, sapete cosa facciamo? Ci calmiamo un attimo. Abbiamo intenzione di ritrodurre questa funzionalità in futuro, una volta aggiunto il supporto e quello di personalizzati per le squadre. Poi, aggiornamento dei social, riprogettato il pulsante apre chiudi gruppo in modo che i giocatori capiscono più facilmente se si ritrovano in un gruppo aperto o chiuso. Gli spettatori appaiono come in partita nel pannello social. Gli spettatori possono vedere e scrivere una chat all tutti delle partite personalizzate, tutto qua. Questo carino, più che altro per i tornei, immagino sia stato fatto. E aggiunto la nuova interfaccia TED per gli spettatori delle partite personalizzate durante la selezione del personaggio. Comprensibile, comprensibile. E questo è quanto, signore e signori. Le patch notes finiscono qui e è il motivo per cui mi trovo in difficoltà a fare le patch notes subito su Willy Barron. Sono brevi, sono intense e c'è poco da dire di solito e quindi è una cosa a cui dovrò abituarmi perché da ora in poi le farò regolarmente. Signore e signori, questo è quanto per questo video e noi ci vediamo al prossimo. Grazie. Grazie.